Il circuito di Imola in Italia, sede del 13esimo Gran Premio della stagione 2020, sottopone i freni a stress meccanico molto elevato e stress termico medio. La frenata più severa precede la curva 18. La velocità iniziale è di 309 km orari. Il pilota esercita una pressione sul pedale pari a 137 kg, sviluppando una potenza frenante di 2230 kW e percorrendo 96 metri in 1,62 secondi. La velocità finale è di 145 km orari, la decelerazione massima di 5,6 G. La velocità iniziale è di 145 km orari, la decelerazione massima di 5,6 G. La velocità iniziale è di 145 km orari, la decelerazione massima di 5,6 G.